Ha suscitato forte emozione a Mamoyada il decesso in un incidente stradale di Francesco Gungui, 42 anni, molto noto in paese in quanto componente dell'Associazione Culturale di Mamutones e Soadores e Azzini Bekoi. L'incidente stradale si è verificato ieri sera a tornare 19 sulla strada statale 389 Nuro Lanusei, all'altezza del bivio per Mamoyada. Gungui era la guida della sua Fiat 16 che per causa in corso di accertamento ha sbandato, ribaltandosi e finendo fuoristrada. Ha scattato l'allarme sul posto e è intervenuta un'ambulanza del 118 i cui sanitari hanno tentato di rianimare l'uomo che purtroppo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Nuro è intervenuta per mettere in sicurezza l'auto e la strada. I carabinieri della compagnia di Nuro hanno effettuato i rilievi di legge e stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente mortale.